Vado subito da Fabio Tujac, che è stato un campione di box presi massimi, lavoratore del porto di Trieste. L'abbiamo conosciuto, aveva un rosario in mano quando hanno cominciato a buttare in faccia l'acqua con le idranti, allo sgombro del famoso Varco 4, ed è stato licenziato che partecipò a quella manifestazione in un'unica giornata in cui lui figurava per l'azienda per cui lavorava in malattia. Salve Tujac, lei ha cinque figli, ha una moglie che lavora part-time, nessuno è vaccinato a casa sua, è risultato positivo al Covid, ho una sensazione che ha fatto una sorta di arachiri, si è rovinato la vita perché si è preso il Covid, l'hanno licenziata, valeva la pena tutto ciò? Così proprio glielo chiedo di getto. Sì, valeva la pena, ho si ruota adesso contro questa ditatura qua, non so quando. Io ho preso il Covid, è stata un'influenza come tutte le altre, l'ha preso mia moglie, i miei figli, l'ho passato a tutti, è stata un'influenza come tutte le altre, sono sempre d'accordo, sempre in linea con il pensiero che avevo prima, insomma il vaccino fa male. Cioè lei mi sta dicendo tutto sto gran casino per il Covid, che è solo un'influenza. Qualcuno muore di Covid, è vero? Eh no, però questo è importante, scusi tu, abbiamo azienza perché io ho anche tanti amici che hanno preso il Covid come un'influenza, dire una bugia non dirlo, c'è un sacco di gente per cui è stato nulla il Covid, ma un sacco di gente per cui è stato un inferno, gente che è long Covid, gente che se l'è cavata ma ancora non sta bene, e beh questo ne vogliamo tenere conto, il fatto che ha avuto l'esperienza lei di Covid leggero, fa sì che il Covid è una fesseria, scusi. Però c'è una cosa importante, il Covid non è detto che lo prendi, il vaccino invece te lo vogliono obbligare a fare e ogni tanto qualcuno muore di vaccino, per carità non muoiono tutti, però come c'è scritto in questi giornali, quando muore il primo sedicenne dopo il vaccino, la Trieste è un uomo, è morto tre ore dopo il vaccino, in Slovenia hanno protestato, è morta la moglie di un diplomatico, di un parlamentare come Fedriga, subito dopo il vaccino, c'è gente che ha più paura del vaccino che non del Covid. Non è detto che lo prendono tutti i Covid. Un attimo, però abbia pazienza, i casi singoli non fanno statistiche, io le posso citare quanto sono i morti per Covid in questo paese, 132.000, a mio parere è un numero spaventoso, terribile da guerra, le posso invece dire... Hai visto i morti degli altri anni di influenza, ogni anno l'influenza fa una strada, nelle case di riposo i più anziani, perché abbiamo detto subito, la media dei morti era di 80 anni con patologie, era così, l'ho detto subito, tutti i giornali, 80 anni con patologie, io che ne ho 41, come mia moglie e così, per noi è stata veramente un'influenza, forse è stato adorato un po' di più, ma abbiamo solo dovuto aspettare i tamponi che fossero giusti, insomma, ero giù l'ultima volta... Scusi, ma lei si è accorto di una cosa, abbia pazienza, tu Iaccio, tu Iaccio.